Appuntamenti culturali nella Capitale Visu insegnala ai suoi lettori una selezione accurata delle esposizioni nelle pinacoteche, nei musei, nelle gallerie d'arte private di Roma a cura di Cristiano Felice dal 26 febbraio al 3 marzo e nelle stesse date e rinunciabili appuntamenti culturali con incontri, conferenze, dibattiti e presenze nell'Accademia e gli istituti di cultura nella Capitale. Grazie